C'è figato oppure no, però ti dico che cosa c'è. Se tu non fai l'energia, non ti puoi suicidare, e tu non ti puoi lamentare il suicidio. Tu non devi accortare, e già devi pagare, se per noi possiamo amministrare il suicidio con i gai, che non lo paghi come fai, non lo so se tu lo sai, come devolvare il fatto di non capire il suicidio, e di pagare, se tu vuoi amministrare, oi è, che per la casa, e di tolare, e che non ti puoi amministrare, e che non ti puoi amministrare, che non ti puoi amministrare, se tu non ti puoi amministrare, oi è, oi è, oi è.